allora video tutorial sull'utilizzo dei kit medici come utilizzare il proprio kit settimanale andare nel programma settimanale aprire l'incontro della partita nel momento in cui la partita sarà stata giocata dopo aver dato i regolari accordi nel preaccordo partita dovrete dovrete semplicemente entrare nella vostra nel vostro tabellino e vedrete il la sezione kit mediche utilizzate kit di squadra qua vi viene chiesto di inserire il kit di squadra e quindi non il nome del giocatore che andrete a recuperare ma troverete direttamente kit atalanta per dire e segnalare per quanti giocatori andrete a recuperare il giocatore vi basterà mettere il numero che vi servirà a recuperare cliccare aggiungi e il gioco sarà fatto e se andiamo a vedere nei kit utilizzati risulteranno ecco qua vediamo subito l'atletico madrid che ha capito perfettamente l'utilizzo dei kit medici ma bisognerà utilizzare il nome kit squadra e non il nome del giocatore per poter far sì che tipo i kit siano utilizzati che purtroppo Grazie a tutti.